Oggi primo giorno di zona gialla in Lombardia, i bar e i ristoranti possono riaprire sia a pranzo sia a cena ma solo all'esterno. Ci sono delle problematiche? Sì, problematiche ce ne sono tante, come al solito c'è anche molta confusione. La problematica più grande riguarda tutte quelle attività e sono molte, circa il 50%, che non hanno spazi esterni e che non potranno usufruire di questa possibilità di lavoro. Questo crea una sorta di discriminazione anche perché nel provvedimento non viene segnalato alcun ristoro o comunque sostegno per tutte quelle attività che, ripeto, non potranno operare. Avete richiesto dei chiarimenti rispetto al decreto? Ma è due giorni che io sono tartassato di telefonate da parte degli associati perché, ripeto, come al solito c'è molta confusione sotto tanti aspetti. Ci sono dei dettagli che non sono stati specificati e come FIPE nazionale stiamo continuando a inviare richieste di chiarimento per tutti gli aspetti che non ci sono chiari. Per quanto riguarda le richieste di occupazione di suolo pubblico, ci sarà un'accelerazione in questo senso? Io personalmente ho già sentito gli uffici qualche giorno fa e mi dicono che sono ovviamente tempestati di domande. Con il precedente assessore, con il nuovo, eravamo arrivati in accordo per velocizzare le pratiche. Mi auguro che anche gli uffici sotto questo aspetto seguino di conseguenza le indicazioni della politica. Ristoranti e bar riaprono, sì, ma tra dubbi e incertezze. Centrali la distinzione tra servizio e consumo al banco e quella sull'utilizzo di barriere nei dehors che, così adibiti, potrebbero considerarsi spazi chiusi. La speranza è un chiarimento tempestivo. Nel frattempo ci si arrangia.